Dalle 10 al 12 giugno al Nuovo Borgo, la seconda edizione di Benessere, Salute ed Estetica organizzata da Soul Partnership. Allora, gli obiettivi di questa manifestazione quali sono? Allora, gli obiettivi sono appunto di far crescere questa manifestazione che si trova alla seconda edizione. L'anno scorso abbiamo avuto un ottimo successo, quindi abbiamo deciso di ripeterla, anche perché a me sta molto a cuore. Tocca dei temi molto importanti che sono quelli appunto della cura e del benessere della propria persona e le parole appunto benessere e salute si intrecciano e quindi viaggiano insieme. E una volta che suona insieme si aggiunge anche l'estetica, cioè la bellezza di stare bene. In questi tre giorni avremo degli appuntamenti con degli specialisti del settore che ci indicheranno e ci faranno capire come avere cura del proprio corpo, della propria mente, quindi star bene sia dentro che fuori. Senta, la tre giorni come è scandita? Cioè il programma qual è? Il programma è questo. Nel primo giorno ovviamente avremo una fase di inaugurazione con un buffet e della musica, della buona musica. Quindi tutti gli stendisti avranno modo di rilassarsi e daremo modo ai visitatori del centro Nuovo Borgo appunto di visitare tutti gli stand. Poi man mano nel susseguirsi dei giorni ci saranno appunto di interventi, magari del nutrizionista, del dottor stesso Leon Bruni o di altri specialisti del settore. E chiuderemo con la bellezza e quindi con le performance sia di trucco che di capelli per la nuova moda 2016. Grazie. 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 Grazie.